A due minuti dalla macchina, comoda la base, la barra più impressionante di sempre, la Bonne des Yen, veramente nasce senza parole. Qui forse è più il posto di Adamondra che nostro, ma i tiri ce ne sono per tutti. Eccezionale. Ma siamo senza parole, l'ho scoperta qualche anno fa già, mi scelpio là, che aveva capito le potenzialità del posto, e infatti qui ci sono tir di 9, tir di 8, e anche qualcosa per chi scala come principianti, su un settore iniziazione. Stupendo, pieno nord, ombra tutto il giorno, fresco, ventilato, a due passi dal Rotano che scorre tranquillo e sereno. Bellissima. Ciao.